Salve a tutti amici artissi e benvenuti in questa nuova gameplay Gameplay puntata Nel quale giocheremo a Fortnite Endgame Ok Metti X No devi fare pronto Ok Io sto giocando col telefono Con la PS4 Non ho problemi da ammettere Che io sono lo scarsone, ero il pro E quindi mi vedete a morire presto Caricamento 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 Questa carica Anche già C'è pronto Vabbè però qua è rapido Ok siamo i cattivi come sempre Sì Il problema è questo Io volevo farti giocare a te con la Con il telefono Però poi se si vediamo le notificheranno tutte Che Io non è che so giocare Cioè già non so giocare Con Allora Sì Qualcosina me la ricordo Ok Sì Sì perché ho già giocato un pochino Allora noi siamo i cattivi I chitauri Allora mi devo lanciare dove mi lancio vado Vado Ieri ho fatto cosa guarda hai visto hai fatto caso i cristalli di ghiaccio come ne scende Guardale guarda Bellissimi Come si chiama Guarda a me non c'è vero Eh invece a me guarda come sono belli Guarda i piedi Forte guarda Dove sei atterrato? Su questa mini collina Ok allora guarda ma ti spiego Vabbè penso non so se hai capito questa modalità come funziona Allora eh Quella Tag name è il tuo penso Eh sì Vedi eh ok Abbiamo Praticamente abbiamo qua Lo stesso profilo con il nome diverso Io Mariano Tu Tu Mariano 70 Sì o Mariano YouTube Infatti guarda Si sente lo sparo Eh infatti Quello che mi sta sparando praticamente Guarda Allora ma dobbiamo cercare le gemme Dobbiamo cercare le gemme così No ti spiego allora qua Perché ieri ho giocato un po' Qua dobbiamo aspettare che dice La gemma sta arrivando E dobbiamo andare sulla gemme Ancora niente però Ancora niente Aspetta come devo ieri Ecco qua Ma prima gemma l'infinito sta arrivando Aspetta Vediamo dove va Ok ma Ok non è molto lontana forse Vai andiamo Sì allora io No 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 Almeno così mi hanno detto Che Freddy Sesse il primo a prenderla Diventi Thanos No forse no Perché ieri mi pare Che si riuscì Ecco Bam Eccolo Thanos È la prima volta che mi piace Thanos Eh sì Ma siamo dalla sua parte Ma qua siamo noi che stiamo costruendo Siamo i Gitauri E abbiamo la prima gemma Giustamente Giustamente Questa jetpack che aiuta a volare E' fantastico eh Quello già per me è difficile A giocare sulla Playstation Sul telefono è impossibile Sì è molto più difficile Sì ma perché quelli sono i tasti così Eh ho capito Attacce Cioè dovrebbe essere anche più facile Perché stanno i suoi La gemma della realtà Sta per arrivare Ah sì cazzo Me l'ho scordato Ok Si è fermata Andiamo Ah forse è là eh Sì quel fascio russo Chi l'ha coppato Bastardi Questa volta siamo Dalla parte dei cattivi Ah là è dove sta succedendo quel casino Ma l'avranno già presa forse Sì Si è rigenerato Dove possiamo fare Nanguna cosa Possiamo provare a fare A invertire Però voglio fare una partita Qua e tu provi a fare una di qua Eh non lo so Provami in un modo Diciamo è tutto un po' sperimentale Papam Ma oh Mi sto bastardo Vedi Rigenerazione Uno Ah beh già è tanto Che non sei molto 37 volte Eh ma si gioca pochissimo Mi stai facendo venire Un emozio Ah 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 Io ci ho giocato Ah vai apri Ah non si può aprire Vai distruggila Perché questa era Questa era Questa è la distruggia Non me la fai neanche distruggire A me non l'ho fregata così Gemma dello spazio La prima mappa Ecco E di dove Atterra Ecco Sta là Terrata Solo che Ma mentre ci arriviamo No Se la fottono Ma c'è lo scudo del capo A quanto mi piace Eh ma ora mi arrivo Cazzo Vola Eh si consuma Cioè il problema è che si consuma Insomma in fretta Rimanga a piedi E poi si ricarica Guarda Eh Sì si ho visto Ho notato già ieri Ce la farò Non ti scaricare Non ti scaricare Ancora un po' Nacce Vabbè Certo che in questa natura facciamo spinto Eh Ho lo qui Cazzo Stavo per ucciderlo Non mi ha fatto Sono atterrato Due gemme Il fratello mi ha coppato No Sono Thanos No Guarda È più grande Sono un colosso Guarda qua Guarda come Siente bellissimo Vai Bellissimo Ehi Guarda Oh Bam Mamma mia Qua spacchi proprio Qua ti dice come puoi fare Raggio Ah è qua Grande Puoi fuggirlo contro gli Avengers Ok Allora ora Ora devo per forza Così del pugno Salta Per saltare X Se ti prendo un X Carica il salto Questa puntata va per forza Messa perché non ricapiterà Mai che sei Thanos Dai stanno 3 gemme Anima spazio Solo qualcosa non è chiaro Così e poi Ok Comunque è bellissimo essere Thanos Da lei Da lei Ti hanno ucciso Ti hanno ucciso Vai a prendere la gemma Sta là Attento che è vero che c'è duemila di vita Però ti Se sono un sacco di vengesti ti accoppano presto No Devo capire Aspetta un attimo Dove cazzo sta Veramente difficile Che c'è Thanos Sì è raro Perché deve essere culato Che ti lo acchiappi tu Guarda carica e salto Poi Guarda Sciottiamo una vengers Ok ho ucciso No Sì Forse ho ucciso una vengers No No Sì io l'ho ucciso Mariano Va che Mariano YouTube Vedi Non andare verso di là Vai scappa Ah cazzo Stanno di qua Porco Giuda La gemma della mente Dai Stai a prendere la cazza di gemma Thanos sta arrivando Stai a prendere la cazza di gemma Stai a prendere la porta Vai 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 lá vicino Presto 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 Scappa Se no scappa Non puoi perdere Guarda Sì Sì Che cazzo Vai Vai che lascia Sì Vai Scappa Scappa Salta Salta Sei mortissimo Non sei Così Non riesco Sì Non riesco Guarda No, cazzo Non c'è più Thanos No, sicuro In comune coglione, eccolo qua L'opportunità di sfondare tutto Però sai cos'hai forse? Non avendolo mai usato Non conoscevo bene, infatti riuscivo a saltare bene Ne chiedo usare Thanos E il salto non sapevo governarlo Cioè, facevo un piccolo salto comunque Invece vedi con Con il jetpack degli Tauri Più facile Bastardo Vabbè ci stiamo provando Ma te c'è me c'è me c'è me c'è me c'è me Mi ha sparato alle spalle puttana Se l'hai meritato perché io sparavo Avanti che quella mi sparava dietro Puttanas Puttanas alla decima Per me è morto O.N.�. Abbiamo capito che questa forse la prendiamo Ahahah Che poi i comandi sono messi anche a cazzo di cane Perché Cioè qua spadi qua spadi Non è assento non è assento Bastardi o batteri anche io fa il culo buo è scarsissimo speriamo di essere superiore c'ho almeno la medaglia per la scarsizza e vai proviamo vai spero io non devo tirare se non ti cade il coin eh no ok ma già ero quando è più difficile eh beh ma certo clicca se è pronto ma siamo due cinesi ciao cinesi che se ci guardate se ci cagate ciao cinesi quindi io so tutto in gioco per fuori per fuori per fuori ma vedi che Thanos ti piace lo so che Thanos è bello però Thanos è quasi impossibile diventarlo invece la vinges è bellissimo mhm per fuori la vinges no vabbè io già sono chitauro ok già sono chitauro l'abbiamo perso per saltare ok questo qua benissimo per sparare capito oggetto a questo qua c'è anche un'altra cosa vabbè ma sicuramente comunque dai figli di Thanos eh qua figli di Thanos non è colpa mia se diceva figli di Thanos 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 può essere un invisibile ma il vulcano guarda sta ruttando eh bello già ieri vatti quello gliel'ho visto forse siamo già vicini o più o meno oh no no siamo praticamente distanti una cifra non tanto però è anche così guarda qua devo trovare e sparare questo si ok e il jetpack e questo qua si ok eh ma ho appena cominciato forse con la ps4 è un'altra cosa però proprio come lo si vive eh a parte lo schermo lo schermo eh infatti lo schermo no ma proprio tutto quanto eh si qua è bello però è un'altra cosa con la ps4 mi riesco però a capire dove sta gemma dell'anima no guarda la voglio diventare io da Thanos speriamo che diventi anche tu la raffolgono almeno già è stata una botta di culo prima ma è vero che ti è capitato a ti almeno eh no già l'hanno presa per fuori speriamo che la raffolgono almeno forse sta là aspetta 4 forse divento io Thanos 2 1 si l'ho presa solo Thanos grande bellissima da qua pugno 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 bam ora mi diverto guarda non so questo questo dove stai forse ti ho trovato a eccoli ciao mio ciao mio ciao mio e cazzo sono un tuo amico sono un tuo schiavo a vedi ma tu il salto lo sai fare bene io cazzo non ci riuscivo no neanche io lo sai fare bene e guarda dai è x e poi si la caricavo la x non sa per arrivare la gemma figlio mio vallo a prendere dimmi padre dove sta la gemma oh cazzo non so dove sta non ti pago per non fare un cazzo non so dove cazzo sta help help gemma for me figli miei andate a prendere la gemma si ma io voglio andare a f***lo ma due l'ho appena passata ok ho lato anche la gemma è bellissimo il setano hai visto l'ho detto non ci abbiamo mai giocato come tanto però quella è perché quella è infatti l'ho battuta anch'io qui è questo gullone che stas parando sto sparando gemma dallo spazio vai aspetta è difficile saltare le gemma hai visto è difficile però già salti meglio già salti meglio di me è difficile ma perché se lo carica comunque però comunque riesci a gestirlo meglio rispetto a me io saltavo poco nonostante che la caricassi ecco la gemma l'ho vista è l'arma che fa paura a Thanos perché ha mirato alla testa dai cazzo che me ne arrivo se la f***o dai cazzo che me ne arrivo se la f***o no dai dai ci pare una chase ta 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 ok ho ucciso no cazzo però mi ha fatto si 5 4 3 ho ucciso iron man iron man mi dispiace ma ti toccava si volevamo essere gli avinjes ma non ci è stato concesso quindi è stato bello giocare con thamos si almeno ho fatto ma vediamo quante che tu quanti e tu zero kill che guarda dove sta quel cecchino si vede ho fatto due kill vabbè meglio di niente almeno l'ho provato almeno posso dire di averlo ma cazzo sta vedi cecchino 0 c'è 0 vedi ah 0 a me sta scritto 2 guarda ma è là dove sta alla fine di tutto 2 ah questa qua 2 si ma ehi ma ci sei nato su di f10 su di f10 c'è un occhio di minchia ah ued shot e poi io pensavo di aver ammazzato un coglione invece no ah appunto 23 andiamo verso la gemma direttamente vai 25 aspetta questo forse lo ha poco vai 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 scusa io dai che la gemma è quasi vicina tatatan ok l'ho ucciso io però ma guarda il porco giuda dai cazzo ma che oh andiamo di mano in peggio vedo due gemme da lontano non riesco a prenderne uno al mino gemma del tempo la sta per arrivare però due ce sono arrivate se l'ha interrutto l'ho dovuto rimettere vabbè non fa niente proprio nell'editing poi se riusciamo ad andare brava vabbè qualche taglio ci sta vabbè siamo morti già un miliardo di volte certo come minimo oh dai ho ucciso anche iron dai 60 60 ah io sono quasi ammazzato quindi mancano due gemme a thanos due gemme prenderemo mai le gemme almeno quelle quanti kg hai fatto 0 0 ma chi 0 non si abbatte però no 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 mi hanno capito mi hanno capito se ne so un'altra gemme a thanos bene guarda quella la vedi si si quella la eh guarda c'è il mio nonno un 53 dai dai 90 no un cassino no cazzo 75 dai 70 60 sono morti un fantotto alla testa dai vai 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 no dai si è stato asciutto 90 ha ucciso l'ho ucciso 90 ha ucciso 90 ha ucciso anche di su mi ha ucciso mannaccia c'è stato per ammazzare quel figlio di puttano si adesso cogliono bastardo dai guarda bastardo aspetta ma io devi seguire un po' la piattaforma questi non possono ok e là c'è un bravo è strano di fare per eh si è strano certo perché fino all'ultimo abbiamo sempre di fatto per gli Avengers ma stavolta ci tocca di fare per thanos anche perché abbiamo visto come è bello giocare con sto personaggio no c'era per fortissimo lezioni di italiano 2020 ma che è che ne sono agroniche op ok o c6 kill tu una almeno una kill almeno l'hai fatta dai io ne ho fatta i 6 e già non so come riesco a farli vedo questi guanti guarda e non li puoi prendere sono quelli di Aero ah cazzo no hai niente fanculo no lo scudo ma sei a mamma io la sacce la sacce buono la sacce buono capitiano capitiano uno uno non è già tanto per me ma perché peccato che non è per sempre questa modalità se no si e che lo dice a fa che non è che non mi piace fortale tra vabbè non ci gioco perché la gente è troppo fissata però cioè ci giocare 50.000 volte al giorno ma per quanto tempo l'avremo questa meno si è c'è dato di sapere eh meno di 5 6 5 8 ah come ti saprei per finire eccolo Thanos no no magari no no sono un discipolo dai dai oh maestro dove andiamo magari intanto per non cambiare aspetta dai che me lo fai incilare 90 di testa vai ucciso no non ti preoccupare qui non ti preoccupare fratello questa volta mani no no cazzo stavo per futterlo ok 8 kg dai se arriva a 10 è una op vedi cosa si chiamava op io ho ucciso uno che non è op perché si è fatto uccidere da un altro da uno bene è più o meno più o meno direi ma che vai salta cazzo già complicato Tata Tata Se moriamo Se moriamo La posso dire Sta chase E raga Mi fanno sbloccare Mi stai osservando Ah ecco E' stato divertente Vabbè E' stato divertente Andiamo a prenderci l'ultimo caffè Dai Tata L'ultimo caffè BAM 100 Vabbè 8g Torna alla lobby qua Ok Allora ora vorrei fare un'ultima partita Però vediamo se riusciamo a farla proprio da vingers Ma se c'è l'amica scegliamo noi Se non esce usciamo Ah e proviamo A me sta bene figurati Anzi Diciamo che l'intenzione era quella Però purtroppo Però è seretano Soprestato che vi piaceva E' stato bello Ok ma dobbiamo aspettare Devi scioparti il pass Vabbè però termina fra 7 giorni Quindi devi resti scioparti quello nuovo Che partita per favore a vingers L'ultima partita da vingers Se non dobbiamo uscire e rimettere Dai 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 Sei una vingers vai siamo a vingers Finalmente Non è la skin da chitauro Ma però mi devi armare Vabbè ma non stai muo' in la lobby Ah ok meglio così Mi serve sempre per pratica Ok ma io sono invisibile ecco Ok Ok ma io non possiamo divertirci Perché fa bellissimo usare Ma non ci dobbiamo catapultare con Non ancora Perché si sta caricando Ah ecco Ok Però mi sa che mi devo armare peggio Ti dico io quando saltare Ok Ok Devo un'ora vai Mandato Ok bravo Sono una freccia Sì sì La seguo la seguo Ah sì Per favore no Non occhio di falco Non occhio di falco Non vuoi essere ok No perché occhio di falco non è che fa schifo Però Cioè io Non è che sono bravissimo col cecchino Su fortnite Se era minecraft Era meglio Ecco Indovina chi mi uscirà eh Occhio di falco Occhio di falco Perché è proprio il più intile Guarda Oh no è uscito il stone breaker Benissimo Sono un torre selvatico Ma in pratica non sono ancora armato No perché devi entrare armato E la mappa cielo Ho trovato un'altra mappa Eh ma ok qua E come distruggo Ah cazzo Di chi Qua Ok non Non mi raccapezzavo Perché ora mi dovrebbe uscire l'arma Fermo Tieni premuto Tieni premuto Tieni premuto qua Fermo Lascia lascia Vai Ecco aspetta Ah ok Oh scudo di il cap Benissimo Mi piace il cap lo sai Ok Eh valla a prendere Si Preso ok Ok occhio di falco vabbè Sai come si usa? Così pari e così lanci Paro? Aspetta No ah così lo lanci Ok Ok benissimo Lancio Benissimo e così mi difendo Ok Ordiniamolo Ordiniamolo già come io me lo metto Così Tor panzone Però guarda sono biondo come Tor Tor panzone Sa buffa e vino Vino Birra Era birra Birra vino Era birra Sì era birra Perché gli dicono sulla nave c'è tanta birra Che birra è? Che birra è? Sì è subito in barca No però non si può vedere Ma proprio Tor C'è proprio Tor chiaro Proprio quello fisicato Ti fa quasi senso Eh Sai perchè questa scelta forse per dare un risvolto diverso Una cosa diversa No per farlo finire magari perché Non lo ha mai Però dai lo scudo deve fare PTA No ma non saranno finiti No Nel senso che Gli Avengers originali avranno finito il contratto E quindi L'hanno L'hanno fatto finire la loro storia Ah Ho capito Eh ho capito Falcon Eh comunque si fa qualcosa spoiler free su Endgame Quindi Mi dispiace ma Vabbè ma a questo punto penso che l'hanno visto se non tutti quasi tutti Vabbè Iron Man muore Vabbè Infatti me lo fa lo spoiler anche in un gruppo Whatsapp Eh già l'ho vista al cinema Proprio utile Vabbè non lo spoilerati Eh ma l'ho vista già al cinema Cioè proprio Vabbè Però devi cercare di non farlo vedere Eh certo però Fino a mo non vedo niente Oh cazzo Vai scappa Eh quello voglio fare Vai continuo alla avanti Ti ho detto ok c'è qualche mono per scappare Ah magari Sono uscito Sono uscito Sono uscito Ok sono uscito Mamma mia stava per fottermi Una nube mi scopa Una gemma in arrivo Questo c'è Si Facciamo Allora facciamo proprio come il film Andiamo a prendere quel figlio Di puttana Fa fa Tu 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 Eh E appartendo Non manca Forse ti hai anche trovato Vedi Vabbè cazzo Se la canta io pure mi bloccano No no Dico eh la cantina io perché se no ci blocca Eh appunto quindi se la canta io canta la muniz E' tutto a posto Almeno c'è vero Il senso è quello Almeno non blocca Il secondo mi commenti ti amo 3 mila Mariano 3 mila Non è una competizione Ma tua figlia mi ama 3 mila tu ti agili fra i 600 e 900 approfitto di questo video che stiamo facendo per dire sbloccatemi l'altro video vi prego sì ma perché allora ripeto l'ho detto mille volte vedo gli stessi video con gli stessi contenuti non bloccati perché mi è bloccato perché mi è bloccato se ci sono gli stessi contenuti è rotto i coglioni questo è rotto! mi bloccherà a vita! mi bloccherà a vita! infatti io non so vabbè essendo che a fortnite comunque non ci gioco tanto ha spazio insufficiente bene bene ok vabbè procediamo così procediamo così ok mettiamo una parte con la webcam e una parte no una parte senza Thomas è tornato ma è strano che c'è lo spazio quanto abbiamo registrato quando stiamo giocando? cioè il mio telefono non ha mai detto spazio e quindi stiamo giocando da parecchio sai qual è il problema? mi sembra 3 secondi fa che stavamo giocando ecco ho trovato una gemma! ole! la puoi prendere però? no però la posso difendere? sì quindi nel senso che non devi uccidere tutti quelli che si ammigli ok gemma alle mie spalle come sempre almeno per farmi capire sul ps ma sul telefono questa è comunque una cosa che devo ancora imparare a fare costruire sarà semplice per chi è pratico nel gioco sicuramente io non lo so fare ancora ah! ora miro alla testa! scusami! oh! non l'abbiamo ucciso! non l'ho ucciso io però almeno io mi ho lanciato lo scudo due volte ma non so vabbè sicuramente non sarà merito mio ah beh almeno puoi dire di aver fatto del danno a Thanos cosa sto costruendo accesso guarda perché devono... ma magari sennò lontanissimo ora una cifra ah no forse no vedo... vedo la luce in fondo al tunnel no no cazzo che sono dire morire ok sono ancora qui devo non bregoglione ancora parecchio per il mondo poi me ne andrò cazzo c'è sto martelletto del diavolo cazzo dio si è più bello chiusmari che cazzo ormai non mi? eh hai ragione scusa mi sono imbrogliato un attimo qualcuno sei un agente segreto no mi sono imbrogliato un attimo cazzo non è... mi sono imbrogliato porca mi sono imbrogliato oh è eliminato un tc a caso posso aggiungere un ilquilibro? ci sono persone su... a piacere diciamo che a me mi servirebbe un'arma di quelle potenti avengers io il problema è che a me mi servirebbe non so che non ci sono no questo è ferro ma è che non hai armi? c'hai il coso lo scudo ah cazzo ce l'ho scudo ecco allora sta qua vi do due gemme che sono atterrate ma mi devo dirigere verso una nooo mi hanno stuflato stuflato ci inizia gemma ha pure zugi costruisci? come cazzo costruisci? ah ok no lo stava scendendo tu lo stai scendendo l'altro basta che lo fanno basta che proteggiamo ma dove questa? dove la gemma? sta qua alle mie spalle vedi guarda eh quell'altra si ma la musica è bellissima la verità bella ma che cacchio fa sto ricchione? mi hanno chiuso dentro o meglio mi hanno chiuso dentro con la gemma ma io di qui ci sto io un altro anzi siamo in tre adesso ma chi è? ma perchè è un ricchione questo che abbatte le cose? ma chi ha? ma sei sicuro che è lui? si ma forse è un infiltrato non è un cattivo è un infiltrato del cazzo è un doppio giochista e cazzo non bastare almeno oh l'ho ucciso bene due kill e allora è un doppio giochista no l'ho ucciso io ta 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 ma io vorrei un po' uscire se possibile grazie esci spacca capi? mh stai spaccando ok si sbatta è vero se vuoi è vero se vuoi diventare Hulk sarebbe stato spettacolare Epic Games per favore fai fortnite Hulk Hulk si inserite Hulk però non solamente proprio tutto il personaggio bravo oh mio dio mi sono meravigliata che questo fa non ha fatto il doppio gioco è arrivato un'altra si la stanno proteggendo se noi siamo ritornati volevo solo capire se stava registrando mi era venuto un attimo di fuoco no cazzo per guardare per guardare sono morto si no ma io sarei molto dentro comunque per guardare cioè agiamo io normale più è distratto a guardare lo schermo 2 gemme sto facendo il colosseo qua dentro pur di salvare ripartiamo un attimo di assenza un attimo di assenza eeeh quella scena mamma mia oh ma guarda sono proprio un'altra vieni vai 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 arriva verso di lui dove sta? oh io io ho fatto freddo cosa stai osservando? mi sto cercando i capi che ok il lago con la come è dove? sono i tuoi ali eeeh si 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 vero maria aspetta fermo segui un attimo aspetta ho trovato un coglione dove stai? no guarda lo stormbreaker sto qua guarda vieni mi segui vieni qua guarda sta lasciando i torri vieni guarda sta lasciando i torri ti seguo? questa qua guarda ah si perchè non ce l'ha no no cazzo mi sa di no però io aspetta mi sa di no vai ma ritorna da me vai ma ritorna da me non abbiamo vendicato ah forse divido vanno c'è tanto danno c'è tanto danno dai altri 100 dai questa la ma questo è proprio un gay la nostra è morta la nostra è morta pari guarda vieni che mi devo? dove sei? ecco di qua mariana 76 mi pare di conoscerlo soltati il barrico preso ok ok ora il martello anche di tordo funziona come lo scudo ah si lo lancia puoi sia lanciare che quando lo lanci poi guarda il direzionale non ciò che mi stava sparando bam Ma che coglione mi sparava Ma questa partita è infinita Diciamo che è altro che puntata 10 puntata se uscite L'abbiamo visto Siamo già a 30 minuti di registrazione Però lui li metteva tutti e 30 Si fanno meno 50 pubblicità No però sai che non c'è qualcosa Sono solo 3 chitauri però Questa cosa è buona Mancano altre 2 gemme Sono 3 chitauri Stiamo abbastanza a posto Basta trovarli ora Se li trovo li spacco Ah cazzo mi sta sparando Allora basta che vedo che mi sparano addosso Ecco qua Capisco dove sta Che capito te sta Dai ci diamo Adesso lo Thanos Non mi Abbiamo vinto Aspetta forse abbiamo vinto Aspetta Forse però Sono qui Sparatemi così capisco L'abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Oh però scarsoni Abbiamo giocato pochissimo Tutto sommato ce la siamo Comata bene Spero che questo video vi sia piaciuto Se è così lasciatele a commentare Condividete Al prossimo video Al prossimo video Tutti a commentare Maria notiamo 3000 Mila Grazie a tutti